Anche a Pistoia la situazione legata al caro energia diventa ogni giorno più insostenibile per i piccoli e medi panifici artigianali. Senza interventi urgenti la produzione rischia di fermarsi in poche settimane a lanciare l'allarme e Alessandro Cioni, presidente interprovinciale Assipan di Confcommercio Pistoia Prato. Purtroppo anche se il nostro settore non è accorpato ai settori energivori, cioè il quantitativo di corrente che consumiamo non è paragonabile alle grandi industrie, ma l'incidenza sul prezzo del pane è molto elevata. Per coprire i costi di produzione delle materie prime a quanto andrebbe venduto il pane? Se deve partire più o meno fatto un conto a braccio dai 5 euro in su il prezzo minimo del pane. Quanto sono aumentate le bollette rispetto allo scorso anno? In media sono raddoppiate e triplicate a secondo del gestore. Per ogni mese abbiamo speso circa 600 euro di gas e quasi 3500 euro di energia elettrica, considerando che prima di tutti questi rincari si attestava un consumo sui 150 di gas e 1.500 di corrente elettrica. E quali sono le richieste della categoria proprio per sostenere i panificatori? Sono quelle richieste che stanno girando da oggi tutta Italia, quella di un credito di imposta sufficiente, di essere accorpate anche noi piccole e medie imprese alle aziende energivore e tutto questo va fatto subito. Io personalmente ho spento il forno a gas e sto usando soltanto il forno a legno e il forno elettrico. Altri so che sono già intervenuti riducendo l'orario ai dipendenti o qualcuno non ha rinnovato i contratti. Altri so che sono stati